Le pensioni dei nostri nonni, dei nostri pensionati, sono ridicole rispetto alle esigenze di tutti i giorni. I soldi non bastano nemmeno per fare la spesa. Pagare le bollette, vivere con dignità, dare una mancetta ai nipoti. Forza Italia riporterà le pensioni a 1000 euro con 13 mensilità e il frigorifero non sarà più vuoto. Alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo vota la competenza che conosci, fai una croce sul simbolo di Forza Italia e scegli Massimo Mallegni.